Buoni partecipanti, doppio chilometro, resta nel box, in padro, qua a casa, non so dove, Mauro Di, eh, sono nei mangoni in undici, su Prato, c'è Geni Riccio, Plaki LB, l'ultima performance, mostruosa, è il più gettonato. Via la macchina. Allargo, One Way AS, Plaki, oxigeno alle prese. Tenta di rientrare il Varen di Siddi. Insiste, il pigna, un inciampone da parte di Oxygen, passa One Way ed è leader. Plaki si sistema secondo. Si va dopo 200, 14,6 per il targato AS e ora lunga fila indiana, in terza posizione, Yanez a precedere via via tutti gli altri. E viene via deciso Plaki, ci sarà il Freeway, GP Maisto con il suo LB, 30 e 400, Plaki LB al comando. Cavalli che affrontano la seconda curva e si va anche ai 600 iniziali. Passati in 45,6 ovvio la frazione, in 15,6 da parte del Conway Hall, allenato da Chiaro, con insalchi da catch, GP Maisto. Si completa anche la seconda curva e anche il mezzo miglio iniziale. Mezzo miglio che se ne va in uno, due e un po' di spiccioli, tranquillissimo. Risale Ornette Coleman, seguito da Orleans Font, da Procione Guasimo e dal 9 Prado AS. Si va a timbrare il primo chilometro, mio cronometro è Borbotta 17,3 e cavalli che affrontano la penultima curva. Non c'è stato motivo di andare forte, quindi giostra a piacimento il leader e siamo a mezzo miglio conclusivo. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo. Ho allungato leggermente il leader per non farsi avvicinare a largo dal Ornette Coleman. Di fronte si cambia ancora musica, infatti 14,7 con 15 la piegata, fanno 29,7 di fronte. Allunga bene Plachy, mantiene il comando e si va sulla curva, si distende alla grande il Conway Hall. 2-1 il miglio, scappa via un po' a palo lontano il Plachy e le bisi, in gamba Orleans Font. Di dentro è sempre in agguato One Way AS. Retta d'arrivo Plachy, tenta lo stacco, viene via One Way, allargo Orleans. One Way ora ci crede il pigna, Plachy sostenuto. Scappa via Blue Jeans, Blue 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 Jeans, un'altra pennellata, un'altra pennellata di un cavallo che non ama il doppio chilometro. L'ha vinto lui con il cronometro in testa. GP Maisto, questa corsa. 1-14,7, 17 il primo, fate conto il secondo quanto ha fatto. Signori, sul doppio chilometro si vince così, con i parziali giusti. E i parziali giusti a Peppino Maisto, nessuno lo deve dire. Plachy e le bisi alla grande, il sempre ormai evergreen One Way AS, mentre Yanez, che ormai ha l'età mia, guardate come arriva a Bumba, andato un po' più avanti, porta a casa la terza moneta. 2,93 per Plachy e le bisi. La soddisfazione dichiaro la guida speciale dei Blue Jeans. Peppino Maisto, linea della regia.